vuoi il latte Gaia? Gaia ha ordinato il latte, bevi papà, giù, mettete giù, giù, bravo se avete il letto matrimoniale, che volete di più? Ehi! Gaia! Sei 24 anni e ancora eserciuccio! Che stai a fare? Eh Gaia? Dammi un po' il ciuccio un attimo, voglio vedere, dammi il ciuccio, il tuo, il tuo, dammi il ciuccio tuo, vai vedere un attimo, voglio vedere se c'è la bocca, ce l'hai la bocca dietro al ciuccio? E la lingua? E i denti ce l'hai? Dove? Davvero? Fa così? Si vedono i denti? Ce l'hai? Ah, io pensavo che c'avevi solo il ciuccio, non c'avevi la bocca! Bevi, bevi? Dai, mangia! Il latte va bevuto, non va sparso sul letto, eh! Piano papà, non è champagne quello! Fai piano, bevilo! Senza tante mosse! Ehi, Valerio! Ti volevo latte, dammi il latte, su, via! Dammi il latte, su! Dammi il latte, dammi il latte, dammi il latte, dammi il latte, dammi il latte! Tiè, tieni! No, non lo vuoi più? Mangia la pappa! Ecco la pappa, Gaia! Tiè! Chi vuole che te lo do? Io mamma? Io! Ho detto, chi vuole che te lo dai il latte? Io o te lo do a mamma? Te lo do a mamma? Ok, vai, Adam! Tieni! Nient'altro? O vuoi un giornale, una sigaretta? Vuoi? Vuoi una sigaretta? Il giornale lo vuoi? Te lo porto il giornale, Gaia? Senti, e... Il giornale io ce l'ha! Ce l'hai? C'hai quello digitale? Ma c'hai il giornale di Marcia e Orso? Oddio! Anche se sei a Maraghece? Sta a Maraghece? Eh? Oh! Guarda a me! Non toccare i strumenti di Gaia! Tanto non sei né a legge... Mangia, mangia la pappa Mangia la pappa Giù No, basta, giù, mangia la pappa Com'è la pappa, è buona? Com'è la pappa? E' così buona Tu ce l'hai? Ma dove ce l'hai le pigne, Valerio? Le pigne, dove ce l'hai le pigne? Oh Le pigne, tu ce l'hai Valerio, le pigne? Non si mangia così, papà Non si può fare così Si mangia, si sta fermi quando si mangia Wow, oh, fettone Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grandpa Grazie a tutti.